Con questo video mi farò molti nemici. Ciao, io sono Corrado Siano, medico veterinario. C'è davvero bisogno di parlare del rapporto tra medico veterinario e proprietario? Beh, in alcuni casi sì. Voglio iniziare subito col punto forse più importante di tutta la questione. I medici veterinari non sono missionari. E lo so, sto dicendo una cosa non molto popolare per diversi proprietari. Ma un medico veterinario è innanzitutto una persona. E poi è un professionista. E poi non è qualcuno che lavora gratis solo perché ama gli animali o ha passione per quello che fa. Anche perché per pagare bollette, affitto, tasse, contributi, attrezzature, non si usa l'amore per gli animali o la passione, ma si usano i soldi. E dal momento che queste spese ci sono a prescindere che ci sia un'entrata economica o meno, se tutti i proprietari ragionassero così, i medici veterinari non potrebbero più permettersi di lavorare perché non si potrebbero più pagare l'affitto dell'ambulatorio, i farmaci, le attrezzature, le tasse e la pensione. Di conseguenza, nessuno potrebbe prendersi più cura di cani e gatti. Quindi, se bisogna proprio parlare di amore per gli animali, è bene riconoscere al medico veterinario quanto dovuto, assieme ad una buona dose di rispetto. Dal momento che la salute dei vostri amici a quattro zampe passa dalle sue mani. E a proposito di spese veterinari ho spiegato perché possono essere particolarmente costose in certi casi in un video precedente. A quanti nemici sono arrivato? E questo è solo l'inizio perché c'è adesso il secondo punto. Il medico veterinario non è una macchina. Bisogna mettere in conto che un singolo professionista può seguire decine se non centinaia di pazienti. Quindi a volte può capitare che non sia possibile rispondere subito a chiamate o a messaggi. O che non sia possibile fissare un appuntamento in tempi brevi. Arrabbiarsi per questo non serve e non è corretto nei confronti di un professionista. Un professionista che lavora tutto il giorno e che deve gestire anche chiamate e messaggi mentre lavora. Purtroppo in certe occasioni può succedere di non esserci per tutti. Specialmente se si lavora da soli o con un personale ridotto. Inoltre anche il medico veterinario ha bisogno di mangiare, di fare delle pause, di ritornare a casa dai propri affetti e di passare del tempo con famiglia e amici. E anche di staccare la spina dopo una lunga giornata di lavoro. In caso di urgenze, specialmente notturne o in giorni festivi, potrebbe essere impossibile contattare il proprio medico veterinario di fiducia. O quest'ultimo potrebbe essere impossibilitato a intervenire. Magari perché l'una di notte sta dormendo o perché si sta godendo una cena fuori con la sua famiglia. O perché in ferie. In queste situazioni bisogna rivolgersi alle strutture aperte H24 7 giorni su 7. E per evitare di perdere tempo prezioso in caso di emergenza, il mio consiglio è quello di cercare quelle più vicino a voi prima che succeda qualcosa. Terzo punto. Non bisogna chiedere una diagnosi o una terapia senza prima aver visitato il paziente. Questo perché inviare una foto o un video o fornire una descrizione telefonica dei sintomi spesso non è sufficiente a fare una diagnosi. È un po' come inviarmi una foto come questa e chiedermi se è giusta di sale. Infatti per ogni sintomo ci possono essere tantissime cause diverse. E una terapia prescritta per telefono può risultare inefficace se non addirittura dannosa. Esempio pratico. Un problema gastrointestinale. Io in questo momento potrei ricevere un messaggio con annessa foto in cui mi si spiega sommariamente la situazione e mi si chiede una terapia. Bene. Andiamo ora a vedere cosa può causare dei problemi gastrointestinali. Un'alimentazione scorretta? L'aver mangiato dei cibi non adeguati? Un'infezione batterica o virale? L'aver ingerito dei giochini di plastica? O qualsiasi altro oggetto classificabile come corpo estraneo? Patologie oncologiche? La lista è ancora lunga. E come avete potuto vedere ci sono numerose cause, anche molto diverse tra loro, che necessitano di trattamenti totalmente diversi. Quarto punto. La sincerità. Quando viene portato a visita un paziente, il proprietario che parla per lui spiega il motivo della visita e fornisce informazioni sullo stato generale. Questa raccolta di dati viene definita anamnesi. Del resto i cani e gatti non possono parlare. E quindi bisogna che lo faccia chi vive con loro ogni giorno. Può capitare però che un proprietario possa nascondere dei dettagli che possano portare subito a una diagnosi. Magari per paura di essere giudicato. Riprendiamo l'esempio del problema gastrointestinale. Magari impietosito dagli occhioni supplicanti del proprio cane, il nostro ipotetico proprietario gli ha dato un bel pezzo di bombolone fritto alla crema. Poi un altro, poi un altro ancora. In questo caso basta che il proprietario informi il medico veterinario che il proprio cane ha mangiato qualcosa di non adatto e nel 95% dei casi si imposta subito una terapia adeguata con completa guarigione. Nell'altro 5% ci possono essere complicazioni impreviste o si possono scoprire dei problemi che nulla avevano a che fare col motivo della visita. L'importante è capire dai propri errori e cercare di non ripeterli. E se proprio uno ci ricasca, perché è difficile resistere a quegli occhioni supplicanti, E' importante essere sempre sinceri col medico e di non aver paura di essere giudicati. Siamo qui per prenderci cura dei vostri amici a quattro zampe e anche di voi. Quinto punto, la tempestività. Può fare molta differenza portare a visita un paziente non appena ci si accorge che qualcosa non va. Temporeggiare troppo può essere controproducente. Infatti un problema col passare del tempo può aggravarsi e le condizioni di un paziente potrebbero peggiorare. Tutto questo può avere ripercussioni sull'efficacia della terapia e sui tempi di recupero. Mi rendo conto che non è sempre possibile accorgersi subito che c'è un problema, soprattutto se si lavora tutto il giorno e si è lontani da casa. Ecco quindi dei campanelli di allarme a cui prestare attenzione. Rifiuto del cibo, vomito, diarrea, cambiamenti nel comportamento come stanchezza, apatia o aggressività, dolore, zoppie o mancata produzione di urine. E' bene anche non cadere nell'eccesso a posto, ovvero correre dal veterinario ogni volta che c'è un problema. Infatti se è evidente che il vostro animale non sta bene, allora portatelo immediatamente dal medico più vicino. Se invece ad esempio ha avuto solo un episodio di vomito, ma si comporta come al solito ed è vispo, potete stare più tranquilli. Certo è che se il vomito si ripete o notate un cambiamento nel comportamento, allora è il caso di prendere un appuntamento. Sesto punto, la pazienza. Che dire dei tempi di attesa? Anche se si prende un appuntamento, può capitare di aspettare anche un'ora prima di poter entrare, proprio come dal medico di base o in un ospedale umano. Ma perché succede anche con i veterinari? Perché una o più visite che ci sono prima della nostra possono durare più del previsto. Questo può succedere quando vengono alla luce dei sintomi o delle patologie, che nulla avevano a che fare col motivo della visita, e che quindi necessitano di ulteriori indagini e di più tempo. Oppure, se si deve spiegare a un proprietario, diagnosi e terapia per il proprio cane o il proprio gatto. Non siamo tutti uguali. Alcuni possono fare tante domande o essere più curiosi. In questi casi, per essere il più esaurienti possibile, ci si concentra sul rispondere ai dubbi del proprietario, dimenticando di guardare l'orologio. Inoltre, tra una visita e l'altra, o anche durante una visita, si possono ricevere delle chiamate da parte dei proprietari per prendere appuntamento o per dei consulti. E queste chiamate possono portare via anche 5-10 minuti. O ancora, i tempi possono allungarsi se si ha a che fare con dei pazienti non molto collaborativi, con i quali bisogna armarsi di tanta pazienza, o anche di qualche tranquillante. Quindi, che si tratti di calmare un paziente spaventato o che si tratti di aspettare che i sedativi facciano effetto, c'è da aspettare un po' di tempo. Per non parlare poi di eventuali pronto soccorso che hanno la precedenza, come per esempio un cane investito. È facile intuire come l'accumularsi di queste evenienze possa portare a dei marcati ritardi nell'esecuzione di visite e procedure. Anche qui non serve arrabbiarsi col veterinario, perché magari il prossimo cane o il prossimo gatto che potrebbe aver bisogno di qualche minuto in più potrebbe essere proprio il vostro amico a quattro zampe. E state sicuri che a prescindere da eventuali ritardi siamo pronti a prenderci cura di loro e di voi nel migliore dei modi. Settimo e ultimo punto. La fiducia. Meglio non farsi influenzare da parenti e conoscenti, o peggio, da social e internet. È meglio avere piena fiducia del proprio medico veterinario, perché lui ha visto il paziente e ha tutte le informazioni per elaborare una diagnosi e una terapia. Seguite i suoi consigli e le sue indicazioni e non avrete problemi. E vedrete, senza che nemmeno ve ne accorgiate, negli anni si verrà a instaurare un bellissimo rapporto di fiducia tra voi e il vostro medico veterinario. Bene, questi erano i 7 punti per un buon rapporto col medico veterinario. A questo punto non mi resta che salutarvi e, mi raccomando, vogliate sempre bene al vostro veterinario. Ciao!